Il numero delle violenze contro gli infermieri rispetto al 2021 è raddoppiato. I dati sono quelli che hanno riportato le aziende sanitarie toscane nell'audizione alla Commissione Sanità della Regione Toscana. Le aggressioni verbali sarebbero quasi all'ordine del giorno, ma non mancano neppure quelle fisiche che, sebbene in misura minore, rappresentano comunque il 7-8% degli infortuni nei posti di lavoro. Soltanto nel primo trimestre 2023 se ne sono verificate 404, 315 aggressioni verbali e 89 fisiche. Il fenomeno, specificano dalla Regione, sembra essere in crescita, anche se nell'ultimo periodo è stato fatto uno sforzo per far emergere casi che in passato non venivano denunciati. Le vittime sono soprattutto infermieri, seguiti poi dagli operatori sociosanitari e dai medici. Gli episodi si verificano più spesso nei pronto soccorso, seguiti dai reparti di psichiatria, in quello delle dipendenze, nell'area CUP e nel reparto materno-infantile. A essere maggiormente bersagliate sono le donne che, stando alle cifre, sono quelle più colpite. Una condizione per nulla nuova anche nel territorio aretino, già denunciata più volte dall'Ordine Provinciale delle Professioni Infermieristiche con il suo presidente, Giovanni Grasso. Secondo i professionisti della sanità, è presumibile che l'incremento dei dati possa trovare spiegazione sia nelle difficoltà innescate durante la pandemia Covid che nell'incremento delle denunce.